Due master per creare manager di eventi culturali e musicali di alto livello. Le iniziative sono state presentate all'Istituto Boccherini da Fabrizio Papi, direttore dell'Istituto, Simone Soldati, direttore del Master Madam e Gian Paolo Mazzoli, direttore del Master Mai. I due corsi prevedono strumenti, competenze e 475 ore di stage. C'è tempo fino al 7 novembre alle 13 per iscriversi e partecipare all'assegnazione di 21 borse di studio da 3.000 euro ciascuna e 4 alloggi gratuiti. Il Master Madam si propone di formare figure specializzate di gestione nel campo della cultura e della musica. Quinta edizione del Master Madam per il prossimo anno accademico. Il Master si propone di formare delle figure capaci di lavorare nel mondo della progettazione culturale, nella gestione di eventi culturali a 360 gradi e altro obiettivo del Master è quello di mettere in contatto queste figure con delle realtà importanti del mondo del lavoro. Il Master Mai si propone invece di creare figure specializzate nell'ideazione, nella progettazione di musica per immagine, ad esempio per fiction, pubblicità, videogiochi ed altro. Entrambi i corsi sono organizzati dal Boccherini e da Celsius con il sostegno delle fondazioni Cassa dell'Isparmio e Banca del Monte. Creiamo infatti delle figure professionali che vanno a riempire dei segmenti del mondo del lavoro per i quali ancora non si sono pensate degli adeguati processi di formazione. Noi crediamo di averlo fatto con le formule di interazione fra personalità importantissime nel mondo dello spettacolo, nel mondo della musica applicata all'immagine, che fanno parte dei docenti o comunque degli incontri che gli studenti di questi due Master avranno durante tutto l'anno.